Ben trovati nell'angolo dello sport, quindi, quindi oddio, cominciare un discorso con il quindi non è mai la cosa migliore, comunque il quindi si riferiva ad un pensiero che stava che stavo rimuginando in mente, cioè di Bancoschi, Pavone e Druda, il nuovo consigliere, che sono in missione in Uruguay, dove c'è un torneo giovanile molto importante e cercheranno di trovare qualche elemento da portare a Pescara, qualche elemento giovane, perché il Pescara in questo momento si è accorto di avere dei problemi per la formazione, tra infortuni e quant'altro ci troviamo nella condizione che in difesa manca un uomo, adesso stanno cercando di provare questo elemento nuovo, Pappo è bel fisico, quello che volete, ma in ritardo notevole di preparazione, poi uno che non è che abbia dimostrato niente di eccezionale, tant'è che è stato provato qualche giorno pure con la Reggiana, la Reggiana lo ha rispedito a casa, quindi come dire, insomma, non c'è trippa per i gatti. Pescara dovrà cercare in tutti i modi comunque di trovare un difensore, ma siccome c'è una lista già fatta, bisognerà che ne tolga uno dalla lista, potrebbe essere Bunoza, che così verrebbe tolto dalla lista per far posto ad un altro, chi sarà quest'altro non lo si sa, bisogna vedere un po' che cosa il mercato proporrà a gennaio, oppure se c'è qualche svincolato serio da poter utilizzare. Noi domenica alle 15 giocheremo contro il Como, il Como di oggi non è il Como che ha meritato, perché i risultati erano tali da meritarsi l'ultimo posto in classifica, adesso è una squadra più viva, più attenta, ne sa qualcosa l'Entella che ha ripreso il 2-2 con molta difficoltà, perché per ben due volte il Como era andato in vantaggio e poi si è fatto riprendere sul 2-2 finale. È un Como allenato da Festa, Festa è uno di quegli allenatori non troppo conosciuto, però bravo, che sa come utilizzare il giocatore, che sa come disporli in campo nella maniera più appropriata possibile. Poi c'è un attacco, il Como formato da Ganze e Bagua, due elementi che si bilanciano, che insieme possono fare del danno. Certo, adesso non mi sto a fasciare la testa, non vi dico di fasciarvi la testa prima di romperla, per l'amore di Dio. Pescara è chiaro che andrà a Como con l'intento di fare il risultato pieno, anche perché deve rimediare le due sconfitte ultime, però non è che va lì a farsi la passeggiatina. Il Como di oggi potrebbe essere una squadra un pochino così, da prendere con le mulle. Quello che mi sorprende è un po' la poca conoscenza della storia del calcio o la superficialità di molti tifosi che considerano il Como come una squadretta, una società di poco respiro. Il Como ha fatto molta Serie A più di noi, tanta Serie A più di noi, tanta Serie B e quindi non è una società così da quattro soldi, per l'amore di Dio. Con questo non voglio dire nulla di più di quanto detto. Il Pescara andrà a Como e potrà fare il risultato pieno, però la partita se la deve giocare e se la deve giocare con molta attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che ci vengono alcuni elementi importanti al centro campo e quindi Massimo Oddo sarà costretto a rivedere un po' le varie situazioni. Per quanto riguarda poi e concludo la situazione dello stadio, mi sono permesso di fare alcune telefonate importanti sia a livello di sovrintendenza sia a livello di coni e le cose non sono anche qui molto semplici, così come vogliono farci apparire Daniele Sebastiani, l'assessore di Odati, il comune di Pescara. Ci sono dei vincoli che non riguardano soltanto quelli quali, quella specie di Y di cemento di cui hanno favoreggiato in queste ultime ore, ma i vincoli possono essere ancora più completi. Non solo, ma c'è anche da dire che non è che possono pensare di fare il campetto di atletica leggera, devono fare lo stadio di atletica leggera, che presuppone dei costi non indifferenti. Insomma è tutta da vedere questa situazione, tutta da seguire, tutta da studiare. Quando si dice studiare poi vedo delle persone che rimangono così interdetti perché tutti pensano di fare consumo di parole e di essere credute, aria fritta come si diceva una volta. Le cose sono molto serie, bisogna analizzarle e studiarle con serietà. Un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento ad Adriano Masciarelli alla telecamera e un ringraziamento al regista, all'amica e collega Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Vi ricordo intanto che tutti i servizi che voi vedrete qui e vedete quotidianamente su TVQ potrete seguirli e rivederli anche su YouTube dove potreste anche rivedervi le puntate precedenti. Di nuovo a risentirci. Grazie. Grazie.